Quanto segue proviene dal medico di Rene Ken, la cui figlia è una SST. Prof. Nelle malattie infettive alla Johns Hopkins University, abbastanza informativo. Il virus non è un organismo vivente, ma una molecola proteica TNA coperto da uno strato protettivo di lipidi, grassi, che, se assorbito, dalle cellule della mucosa oculare, nasale o buccale. Cambia il loro codice genetico, mutazione, e li converte in cellule di aggressori e moltiplicatori. Poiché il virus non è un organismo vivente ma una molecola proteica, non viene ucciso. Ma decade da solo. Il tempo di disintegrazione dipende dalla temperatura, umidità e tipo di materiale in cui si trova. Il virus è molto fragile. L'unica cosa che lo protegge è un sottile strato esterno di grasso. Ecco perché qualsiasi sapone o detergente è il miglior rimedio. Perché la schiuma taglia il grasso. Ecco perché devi strofinare così tanto, per 20 secondi o più, per fare molta schiuma. Dissolvendo lo strato di grasso. La molecola proteica si disperde e si scompone da sola. L'alta temperatura scioglie il grasso. Ecco perché è utile usare acqua sopra i 25 gradi Celsius per lavarsi le mani, vestiti e tutto. Inoltre, l'acqua calda produce più schiuma e ciò la rende ancora più utile. L'alcol o qualsiasi miscela con alcol superiore al 65% dissolve qualsiasi grasso, specialmente lo strato lipidico esterno del virus. Qualsiasi miscela con una parte di candeggina e cinque parti di acqua dissolve direttamente la proteina, la scompone dall'interno. L'acqua ossigenata aiuta lungo dopo sapone, alcol e cloro, perché il perossido dissolve le proteine del virus, ma devi usarlo puro e fa male alla pelle. Nessun antibatterico o antibiotico. Il virus non è un organismo vivente come i batteri, gli anticorpi non possono uccidere ciò che non è vivo. Non scuotere mai abiti, lenzuola o indumenti usati o inutilizzati. Mentre è incollato su una superficie porosa, è molto inerte e si disintegra solo tra 3 ore, tessuto e poroso, 4 ore, rame e legno, 24 ore, cartone, 42 ore, metallo e 72 ore, plastica. Ma se lo scuoti o usi uno spolverino, le molecole del virus galleggiano nell'aria per un massimo di 3 ore e possono depositarsi nel tuo naso. Le molecole virali rimangono molto stabili nel freddo esterno o artificiali come i condizionatori d'aria nelle case e nelle automobili. Hanno anche bisogno di umidità per rimanere stabili e soprattutto l'oscurità. Pertanto, ambienti deumidificati, asciutti, caldi e luminosi lo degraderanno più rapidamente. E le luce UV su qualsiasi oggetto che può contenerlo rompe la proteina del virus. Ad esempio, disinfettare e riutilizzare una maschera è perfetto. Fai attenzione. Scompone anche il collagene che è una proteina nella pelle. Il virus non può passare attraverso la pelle sana. L'aceto non è utile perché non rompe lo strato protettivo di grasso. Né spirito, né vodka serve. La vodka più forte è il 40% di alcol e hai bisogno del 65%. L-I-S-T-E-R-I-N-A se serve. È il 65% di alcol. Più lo spazio è limitato, maggiore sarà la concentrazione del virus. Più aperto o ventilato naturalmente, meno. Devi lavarti le mani prima e dopo aver toccato mucosa, cibo, serrature, manopole, interruttori, telecomando, cellulare, orologi, computer, scrivanie, tv, ecc. E quando usi il bagno, devi umidificare le mani secchi da così tanto lavarle perché le molecole possono nascondersi nelle microcricche. Più densa è la crema idratante, meglio è. Conserva anche le unghie corte in modo che il virus non si nasconda lì. John Sop e King's Hospital